iPhone 16 Pro, Pro Max, anche no. Eccoci qui caro collega, come ogni anno a parlare di settembre e dell'avvento del nuovo modello iPhone in arrivo, il 16. Ti parlo ovviamente solo del 16 Pro e Pro Max, essendo il modello che può interessare a noi videoagenti immobiliari. Infatti le versioni normali mancano di una delle videocamere, quindi per noi non sono interessanti. Ho aspettato a parlartene finché i rumors, ovvero le chiacchiere che girano, come ogni anno sulle nuove versioni, non sono diventate abbastanza sicuri e affidabili. Vediamo insieme quali saranno le enormi differenze fra il 16 Pro e Pro Max rispetto al modello precedente, quello che sto usando attualmente, per esempio per registrare questo video. 1. Il display. Sui nuovi modelli aumentano leggermente le dimensioni dello schermo. Parliamo ben di 0,2 pollici in più, ovvero un niente. La frequenza con cui le immagini vengono aggiornate rimane la stessa, ma aumenta leggermente la luminosità del display. A dirti la verità, non ho mai rilevato il bisogno di più luce già con il mio 15 Pro Max. Quindi il design non è uno degli aspetti che prendi in considerazione, ma a qualcuno magari interesserà che il telavio in titanio è stato ulteriormente alleggerito. Alla fine però, a causa di altri componenti più pesanti, come per esempio la batteria, le nuove versioni peseranno leggermente di più delle vecchie. Ma parliamo di grammi, ti sfido a sentire la differenza. Quindi, la batteria. In entrambi i modelli cresce la capacità di 300 e 400 mAh, che con l'avvento del nuovo chip A18 dovrebbero garantire una operatività più estesa. In effetti, usando l'iPhone 15 Pro Max come videocamera professionale, al massimo delle sue potenzialità, quindi collegato a un disco esterno, a registrare in 4K Apple ProRes a 60 fps, la batteria viene messa sotto sforzo e dopo circa 3 ore di riprese potresti aver bisogno di ricaricare. Con i nuovi si potrebbe parlare di 3 ore e un quarto? Per utilizzi così professionali esistono già dei power bank che si possono collegare durante le riprese, grazie alla USB-C, e che mantengono il tuo telefono bello carico. Quindi, chip e memoria. Sicuramente l'A18 è superiore all'A17. Ma in cosa? Passiamo dalle 17 trilioni di operazioni al secondo a 20 trilioni. ma nella pratica l'A18 nasce soprattutto per l'avvento dell'EI di Apple che, come saprai, non arriverà in Europa, almeno su questa generazione di telefoni. Quindi, ok, lascio perdere le altre cuspiglie e pinzillacre per arrivare a ciò che a noi, videoagenti immobiliari, interessa davvero il reparto fotocamera. Le differenze riguardano soprattutto la fotocamera ultra-wide, ultra-grandangolare, che prende un po' di luminosità finalmente. E il tele della versione Pro Max che passa da 5x a 6x o addirittura 10x. Si parla anche di sensori più grandi ma non si sa di quanto. Di stabilizzazione e resa le basse luci migliorata senza specificare. Se conosci qualcosa di fotografia sai bene che passare da un f1.9 a un f1.8 la differenza di luminosità è irrisoria. Inoltre lo zoom 5x del 15 Pro Max è già spesso troppo potente per i nostri close-up. Per quanto riguarda il software Apple ha semplicemente allineato il proprio software a quello di Blackmagic Camera permettendo i comandi manuali e il 4K a 60 fps in progresso. Quindi? Quindi come nel passato gli iPhone pari per il nostro utilizzo non sono da comprare. Dopo la generazione 11 il successivo salto importante è avvenuto infatti col 13 e col 15. Ciò che è nel mezzo non ha avuto alcun senso. Come sempre ci sarà un ribasso della generazione precedente con ottimi affari nell'usato dei 15 Pro e Pro Max da prendere al volo. La USB-C con la possibilità di collegare un disco SSD per salvare i file direttamente senza riempire il telefono è tanta roba. Anche per poi trasportare tutto sui computer. Valuta la differenza fra un 256 GB e un 512 GB. Scegli il primo e compri un SSD veloce come i Samsung T9 o T7 risparmi e rendi il tuo workflow molto più veloce. Come sempre spero che questo video ti sia stato utile per prendere delle decisioni. Se ti scappa un like mi fa gran piacere. Se ti iscrivi al canale mi emoziono e se azioni la campanella mi scende la lacrimuccia. Ciao. Ciao.